exodus nasce nel 1984 in un parco alla periferia di milano il parco lambro regno dello spaccio risanato da don antonio mazzi la sua creatura arriva a gallarate 14 anni dopo in stazione seconda piazza dello spaccio seconda soltanto a milano sono gli anni dell'eroina anni in cui c'erano siringo ovunque e decine di tossico dipendenti che girova girovagavano per la stazione roberto sartori è da sempre il braccio destro di don antonio mazzi le chiedo cosa si ricorda di quegli anni allora gallarate era conosciutissima come come piazza di spaccio perché praticamente era il punto fulclare da dove dipartivano cinque linee ferroviarie il che voleva dire una possibilità di spostamento di viaggio che era utile agli spacciatori in quanto potevano fare i vari traffici con la svizzera e potevano soprattutto fornire e rifornirsi di materiale a seconda dei casi gallarate soprattutto essendo questo punto fulcrale vedeva il passaggio di decine e decine di giovani di persone tutte quante alla ricerca di materiale da iniettarsi di eroina da iniettarsi perché all'epoca era l'eroina e il modo per utilizzarla era per vivendo bene c'era un'emergenza sociale assolutamente sì assolutamente sì la più parte delle persone non era certo residenziali di gallarate era gente anche che veniva da milano piuttosto che da varese piuttosto però l'epicentro era sicuramente gallarate infatti le statistiche la davano in proporzione la seconda città di spaccio dopo milano all'epoca noi che eravamo soprattutto su milano e avevamo vissuto l'esperienza del parco lambro sicuramente non potevamo chiudere gli occhi di fronte a questo fenomeno infatti don antonio bolle e spinse in tutti i modi per poter iniziare un intervento come già aveva fatto il parco lambro come aveva fatto in stazione centrale a milano volle ripeterlo a gallarate riuscimmo con l'accordo delle ferrovie ad avere dapprima un tavolo all'interno della della stazione proprio all'interno del salone principale della stazione dove poi si diramano tutti i vari binari e quant'altro ed eravamo presenti tre pomeriggi alla settimana era un centro d'ascolto tre pomeriggi alla settimana il lunedì il mercoledì e il sabato e siamo riusciti in un anno nel 1999 a mandare 50 persone in comunità tutte agganciate alla stazione gallarate 20 anni dopo è rimasto un luogo sensibile è uno dei luoghi insomma più sotto controllo della città ma il bilancio vostro siete soddisfatti allora allora rispetto all'utilizzo di eroina per via endovena sicuramente cioè io non so quanta gente usi ancora anche se ultimamente alcuni dati dicevano che c'era un rilancio ma ci credo sì e no insomma però il fatto che la stazione gallarate come tutte le altre stazioni diventino ricettacolo di stranezze è vero cioè il passaggio di personaggi particolari piuttosto di gente in cerca di avventure esiste tuttora e quindi rimane sempre un punto sensibile e di attenzione infatti mi sembra che quante volte le luci si illuminano sulla stazione gallarate però rispetto allo stazionamento dei tossicodipendenti come c'era allora in una ricerca che avevamo fatto ci dava un dato nell'anno 2000 che i tossicodipendenti stanziali erano 70 giornalmente cioè c'erano 70 tossicodipendenti attivi che si fermavano in stazione gallarate un dato altissimo per una città un dato altissimo per una città che aveva 49 mila abitanti 50 mila abitanti fuori da ogni da ogni ipotesi anche anche la più così la più particolare la più estrosa ma qual è il segreto del metodo di don mazzi il suo carisma per riuscire ad entrare nella mente di questi ragazzi a tal punto da fidarsi di lui sicuramente il suo carisma carisma che porta con sé il fatto che lui sia comunque una persona autorevole e che per logica sappia imporre un po quelle che sono le sue osservazioni l'altro fatto che che ci ha sempre insegnato don Antonio nei vari poi momenti di formazione di discussione che facevamo noi tra operatori era il fatto dell'empatia cioè il fatto di sapersi mettere nei panni di chi è di fronte è solo così che forse puoi dare fiducia e far sì che la persona prenda fiducia di chi ha di fronte che abbia un interlocutore autorevole che possa avere anche un'indicazione che gli indichi la strada per andare dall'altra parte di dove è insomma e per salvarsi. Don mazzi ha dedicato una vita ai giovani in particolare ai giovani più fragili e una frase che ama ripetere sempre è che nessuno è recuperabile è davvero così? Sì sì questa è una frase nostra una una suggestione di don Antonio che abbiamo fatto nostra perché veramente l'educatore deve deve credere che nessuno sia recuperabile se no che educatore è se già un po' diamo dei limiti. Prima fuori onda ci raccontava di qualche aneddoto di questi ragazzi. Sì ti voglio raccontare di una una ragazza che era sposata tossicodipendente sia lei che il marito con una bambina che veniva in stazione Gallarate e con la carrozzina con la bambina e sotto il materassino della carrozzina dove adagiava la bambina aveva le buste che distribuiva. Questa è una ragazza che è andata in comunità nel 2001 e adesso è un'operatrice un'operatrice di comunità. Voi ne parleremo magari più tardi avete attivato tantissimi servizi sulla città di Gallarate le chiedo quali sono i prossimi? Quali sono gli obiettivi del medio? L'obiettivo prossimo è quello di occupare. A noi manca qualcosa nel senso che nei servizi noi ci occupiamo sicuramente di tossicodipendenti altrettanto sicuramente delle misure alternative al carcere favorendo il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Ci occupiamo dei cosiddetti clochard, le persone che sono allo sbando in giro cercando di fornirgli quello che gli serve per quanto meno rendere meno duro il loro essere. Ci manca una categoria che è la categoria dei minori. ci sono tutta una serie di numeri anche elevati di minori o in misura alternativa quindi sotto giudicati e quindi giudiziariamente perseguiti. Ci sono tutta una serie di giovani di cosiddetti allo sbandono e tra l'altro anche quelli che praticamente sono contesi nelle famiglie quindi vanno in strutture, una storia e l'altra, di cui c'è una richiesta fortissima da parte dei servizi di strutture per l'accoglienza e sicuramente il futuro è questo qui di Exus Gallaranti cercare di posizionarsi anche con una struttura per i giovani, per i minori. Negli ultimi anni siete stati soprattutto protagonisti per quanto riguarda tutta la partita dell'accoglienza dei profughi, le tantissime polemiche che sono nate negli anni precedenti sui centri dei richiedenti asilo è un tema di cui non si parla più però esiste tuttora, noi al momento abbiamo l'accreditamento per l'accoglienza di 120 richiedenti asilo in provincia di Varese, in questo momento sono 108 ne mancano 12 ma che non faremo fatica a raggiungere il numero massimo. Voi avete sempre scelto l'accoglienza diffusa, piccoli appartamenti? Esatto, noi al massimo mettiamo 20 persone insieme non di più perché sennò non si riesce a lavorare, se un'accoglienza deve essere un'accoglienza deve essere un'accoglienza che ci dà la possibilità di progettare per ognuno di loro o quantomeno dare la possibilità di usufruire di un progetto per ognuno di loro. Poi c'è anche chi l'accetta e chi non l'accetta, chi preferisce sparire nel nulla, non si capisce dove vada o dove non vada. Parlando dei primi arrivati c'è qualcuno che si è integrato? Assolutamente sì, ce ne sono 7-8 che sono stati assunti dalla nostra cooperativa, parlo della nostra ma potrei parlare anche di altre, a tempo indeterminato che lavorano e che vivono tranquillamente, sono creati una casa, un'abitazione, una relazione, c'è chi ha dei figli addirittura già, per cui noi abbiamo iniziato nel 2011, c'è già chi ha dei figli e vive felice e contento con una compagna che non è una richiedente asilo. Negli ultimi anni sempre nella città di Gallarate vi siete concentrati anche sul tema degli ultimissimi, ovvero quelli che vivono veramente ai margini della società, avete anche dedicato un libro utilizzato dal fotografo Davide Cafforio, si chiama Ecco l'uomo, in cui c'è proprio, si va a raccontare quella Gallarate che nessuno vede dentro nei depositi ferroviari abbandonati, nelle aree dismesse industriali, che cosa c'è in quelle realtà che nessuno vede o che tutti facciamo finta di non vedere? Ma io ritengo che questa sia una cosa un po' nazionale, non è solo di Gallarate, esistono delle zone in quasi tutte le città, se non in tutte le città, che diventano rifugi per clochard, per zingari, per persone che, a volte anche persone che hanno magari esperienze particolari e che vogliono dissociarsi o allontanarsi da un certo stile di vita e abbracciano questo tipo di vita. E non c'è mezzo di convincere a fare altro. Cioè tu gli puoi offrire il letto, gli puoi offrire... Quante volte io ho proposto centri di accoglienza per appunto il senza tetto? Perché a Milano ci sono posti a non finire per il senza tetto, no? Specialmente nei mesi invernali. E la gente, sì sì sì, ci vado e poi non si presenta. Assolutamente. Preferisco dormire sulla scalinata di una chiesa piuttosto che sotto un portico. E quindi voi cosa fate? La vostra attività con... La nostra attività è cercare di convincere, di aumentare un attimo la qualità della loro vita. Dal punto di vista sanitario, in primis. Quindi sottoporsi a delle visite, vedere come è lo stato di salute e quant'altro. Secondo, evitare rischi anche di inverno, di assideramento. Non so se tu hai in mente la galleria di Milano, no? Piuttosto che i sottopassi della stazione di Milano. Ma sono vere e proprie camere da letto, cioè allestite, che poi alla mattina le smontano perché devono passare le sanificazioni e poi le rimontano. E non c'è modo. Tu pensa... Milano ha a 200 metri da dove vedi quelle cose, nei sottopassi della stazione di Viale Tonale, no? A 200 metri ci sono 120 posti letto, no? A disposizione. Per cui ci sarebbe sempre spazio anche per... Non ci vanno. Non ci vanno. Non c'è modo di farglielo capire. Non ci vanno. Poi ti chiedi perché stanno sotto il ponte della Mornera. Per la stessa ragione. Per la stessa ragione. Non ci vogliono andare. Noi abbiamo uno dei capostipiti di questi, il Silvio, no? Il Silvio è il famoso Silvio. E lui, adesso si è adeguato, c'è la sua camera, è lì con noi, lavora con noi, per l'amore di Dio. Niente da dire. Ma lui, quando può aiutare, portare qualcosa ai suoi amici, fare qualcosa per loro, ma proprio lo vede anche sofferente se non ci riesce, no? Ma non se ne parla di pensare di integrarli in uno stile di vita differente. Le faccio l'ultima domanda, Sartori. For Exodus, dite, è la scommessa che sia possibile coniugare professionalità e volontariato, avventure quotidiano, familiarità e disciplina, carisma e istituzione. È tempo di bilanci dopo tanti anni. Don Mazzi ne ha 91, la cooperativa ne ha... Beh, la cooperativa ne ha pochi, però insomma la realtà Exodus ormai è operata da quasi 40 anni. Se deve trarre un bilancio della sua attività, non mi piace neanche chiamarla professionale. Beh, innanzitutto dobbiamo essere soddisfatti per aver realizzato qualcosa che non c'era. Quando siamo arrivati alla stazione di Galate non c'era assolutamente niente. e quindi la soddisfazione di avere quantomeno capito che c'era un bisogno e aver cercato di dare una risposta a questo bisogno. Ed è quello che noi dobbiamo cercare di fare sempre. Adesso, ti ripeto, c'è un'allerta allarme minori. Andiamo incontro a questo problema. Vediamo se riusciamo a dare una mano. E stiamo attenti a non fare del bene fatto male che peggio del male fatto bene. Grazie. Grazie. Grazie.